15 pari non ci credo che appunto che ha fatto Rezzo Olivo standing ovation sulla centrale di Buenos Aires se la merita tutta questo ragazzo di 22 anni probabilmente non vincerà questa partita non arriverà ai quarti di finale di Buenos Aires ma qualche soddisfazione oggi se l'è comunque tolta questo è davvero un grandissimo punto sentite come si diverte il pubblico di Buenos Aires che non chiede altro che spettacolo sul campo grazie